What we do here is go back, 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 back Ciao ragazzi, il mio nome è Raffae e oggi siamo qui su Clash of Clans Tranquilli, non mi hanno rapito, non sono morto, sono solo andato in vacanza come tutti gli altri Ma oltre a questo sono salito a Master, come vedete, ho fatto un po' di muretti perché non sapendo cosa fare faccio quelli Almeno faccio qualcosa In questo momento sto puntando a campione perché non ci sono mai stato E ragazzi sarà molto difficile Ma devo dire che questo villaggio difende abbastanza bene Vi faccio vedere qui, vabbè, meno 7, meno 14 Qui 30 coppie Qui 24 con una gowipe, pensate Qui 24 E ragazzi oggi credo che caricherò anche un secondo video Diverso da Clash of Clans Un titolo che sta spopolando su Youtube Vi invito a indovinare qual è Ma oltre a questo ragazzi, questo alberello va tolto Ma cosa faremo oggi ragazzi? Niente Perché non ho preparato nulla Volevo caricare questo video per informarvi della mia assenza E visto che non dobbiamo fare niente Io direi di fare un bel attacco Io direi di provarlo Probabilmente faileremo come tutte le altre volte Anche le truppe del castello Venite, venite Io spero non ne abbia ancora perché sennò siamo fottuti Ok, truppe del castello tolte Direi di mettere un mastino qui e un mastino qui Tutte le mongolfiere Dai, dai, sì Almeno due stelle No, aveva un mago Porca, aveva un mago Lo sapevo che ce ne aveva ancora Ok, forse Failiamo Almeno una stella, dai Non riesco mai ad attaccare quando registro È sempre così 40% Dai Ok, è stato un fail assurdo Ok, ho fatto un po' di truppe a caso Probabilmente sarà un fail anche questo Ma noi ci proviamo come al solito Quindi ci vediamo dopo Rieccoci qui pronti a failare un'altra volta Ho truppe totalmente a caso Vediamo di cercare qualcuno abbastanza forte Oh, finalmente municipio fuori Ok, proviamo questo Anche se credo che non faremo molto Alle truppe del castello Ne facciamo fuori facilmente Almeno spero Ok, la pozione è veleno Non è che faccia molto ai giganti Speriamo di fare almeno una stella Ho messo tutto Ok, perfetto La regina è andata al centro Ok, regina Sì Preso il municipio Mi sono scordato il re Ma vabbè Abbiamo fatto una stella Potevamo farne due Ma va bene anche così Ovviamente dopo aver finito l'attacco Il mio clan mi dona le truppe Fantastico Per questo video è finito Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Commentate e iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Da ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video